nel divenne il signore di milano galeazzo visconti rispetto a pochi anni prima la situazione però si era modificata papa giovanni tentò di consolidare il partito guelfo mal ridotto per questo scomunicò tutti i ghibellini galeazzo visconti compreso tanto che per breve tempo galeazzo fu costretto a fuggire da milano lasciando la signoria allegato pontificio jean de chatillon ma galeazzo fu sempre abile a tornare al potere i guelfi tentavano più volte di togliere milano dal dominio visconteo ma ormai la storia dei toriani era aggiunta all'epilogo nel 1323 un esercito guelfo in cui militavano esponenti dei toriani con cavalieri pontifici provenienti dalla francia e dalla catalonia costrinse visconti ad asservagliarsi a milano essendo galeazzo visconti scomunicato queste battaglie erano considerate vere e proprie crociate combattute con l'obiettivo di eliminare i ghibellini e quindi l'influenza imperiale nel nord italia i guelfi occupavano le aree urbane appena esterne alle mura milanesi che corrispondevano all'attuale zona dei giardini pubblici di porta venezia per sbloccare l'assedio galeazzo inviò marco visconti con un secondo esercito a conquistare i ponti sull'adda e tagliare i rifornimenti ai nemici ma fu intercettato a trecella dall'esercito guelfo i visconti furono sconfitti ma il combattimento stremò i guelfi minati dalla fatica e dalle malattie i soldati guelfi furono costretti ad allontanarsi da milano per rifugiarsi a monza e subito i visconti ne approfittavano per prendere i ponti sul fiume adda zona chiave per i rifornimenti era chiave per tutti che l'esercito guelfo avrebbe affrontato i visconti presso l'adda si dice che nei cieli di monza un piccolo stormo di taccole provenienti da sud cioè da milano scacciò dal cielo uno stormo molto più numeroso proveniente da est beh era chiaro proprio per tutti i visconti avrebbero scacciato i guelfi dalla lombardia centrale e così il 28 febbraio 1324 a vaprio data l'esercito dei visconti si scontrò con l'esercito guelfo dove militavano i toriani insieme a contingenti dello stato pontificio di firenze di napoli e di alcuni territori del parmense i guelfi arrivavano prima conquistando il castello di vaprio ma erano privi di rifornimenti e quindi furono costretti ad affrontare a viso aperto i viscontei begli gli arcieri di marco visconti e la cavalleria pesante ebbero facile gioco dagli avversari quali fuggirono verso l'adda il fiume era in piena e molti annegavano galeazzo ne approfittò ponendo l'assedio finale a monza e facendo tagliare tutti i rifornimenti grazie alla occupazione di castelli strategici come desio missaglia e albiate dopo otto mesi riuscì a entrare nel bogo monza fu saccheggiata i toriani si ritiravano definitivamente dalla ghibellina lombardia per andare nel friuli e in toscana ovviamente ci si aspetterebbe che la vittoria di galeazzo visconti abbia favorito la pace duratura nello stato di milano ma non fu così beh qualche rivolta guelfa accadeva nelle città ormai conquistate da milano a volte bisognava intervenire contro qualche famiglia nemica o contro le continue ingerenze esterne imperatori e papi volevano controllare milano favorendo ghibellini o guelfi e destabilizzando i troppo potenti visconti per esempio il primo agosto 1327 l'imperatore ludovico il bavaro dominò come ricavi imperiale a milano guglielmo di monforte e come podestà gozio de guiderciusen i quali creavano il consiglio dei 24 sapienti un organo che avrebbe dovuto controllare l'operato dei visconti inoltre verso il 1328 fece costruire a milano una vera e propria rocca difensiva la torre dell'imperatore che si trovava presso l'attuale via molino delle arme ai numeri ai numeri 23 e 25 che vediamo in questa diapositiva il tutto ovviamente per dire visconti oh guardate che occhio il capo sono ancora io e poi il tradimento era sempre in agguato stefano visconti venne probabilmente avvelenato dai fratelli nel 1327 o almeno così sostenne la moglie valentina doria galeazzo si mosse contro suo fratello marco visconti per limitarne il potere e quest'ultimo appoggiò l'imperatore ludovico contro galeazzo e gli altri fratelli marco fu poi ucciso da azone visconti nel broletto nuovo e il suo corpo gettato da una finestra in strada ma poi l'imperatore aveva assoluta fame di denaro per mantenere gli eserciti disseminati in mezzo a europa morto galeazzo che alla fine si era inimicato l'imperatore successe alla signoria azone visconti che ebbe proprio dall'imperatore la titolarità del vicariato di milano grazie al pagamento di circa 100.000 fiorini insomma pecunia non ole azone ebbe il merito di stabilire la netta supremazia viscontea in brianza la sua politica era chiara i visconti non volevano stare né col papa né con l'imperatore a capo della seconda città più popolosa d'europa dopo parigi volevano semplicemente creare uno stato nazionale milanese come stava avvenendo in tutto il resto d'europa nel 1329 azone fu invitato a marcaria presso mantova a una riunione di ghibellini convocato da ludovico il bavaro ma rispose che avrebbe preferito morire piuttosto che sottomettersi a ludovico ben strana posizione per un ghibellino tutto d'un pezzo offeso a morte l'imperatore allora assediò milano andando a risiedere nel monastero di san vittorio al corpo appena fuori la posterla di sant'ambrogio fu l'assedio più comico della storia azone mandava quotidianamente bevande e cibi raffinati all'imperatore che fu quindi soprannominato ubriacone dai milanesi in compenso azone avviò trattative diplomatiche per essere perdonato dal papa ed entrare nell'orbita politica francese e grazie a queste mosse a partire dal 1332 ebbe il controllo totale di città come vercelli novara piacenza pizzighettone lodi bergamo crema caravaggio romano di lombardia orzi nuovi cremona anzi era talmente sicuro della sua posizione che perdono i toriani invitandoli di nuovo a milano quanto era cambiata la situazione in lombardia in soli dieci anni inoltre azone era ormai alleato del savoia ma anche dei gozaga degli estensi e per alcuni anni degli scaligeri noterete che stiamo introducendo le famiglie che avvieranno il rinascimento e che useranno la cultura e la bellezza artistica e umanistica come arma fondamentale di successo politico ed economico a livello europeo come vedremo nel video successivo azone chiamò giotto a milano fu quindi un principe sensibili alle arti del suo tempo e non dimentico certo il contado circostante poiché como aveva tentato di conquistare lecco e la brianza azone assediò quella città nel 1335 riuscì ad espugnarla e a conquistare tutti i paesi fino a lecco la valtellina e la valchiavenna la nostra zona d'ora in poi sarà sempre fedele alla città ambrosiana per ringraziamento di questi successi azone istitui la festa di santa maria nascente e proprio a maria nascente o maria bambina qualche decennio dopo sarà dedicato un nuovo edificio niente meno che il duomo di milano ma questa è un'altra affascinante storia arrivederci dal bruco grazie grazie